Ma lascia almeno che ti spieghi! Cioè io ti vengo a raccontare delle cose super segrete, perché la mia migliore amica è una che non andrebbe mai in giro a raccontare i fatti miei. E poi invece a lui si è andata a dirlo, neanche a Stefania. Roberta, a lui si è andata a dirlo! Ma ascoltami un secondo sì o no, è un mese che gli muori dietro e lui lo stesso. E quando vi incontrate non avete neanche il coraggio di guardarmi in faccia. Ma cosa credi? Io l'ho fatto per te, ho fatto benissimo! Biccioc, la forza bella del cioccolato biscottato!